Ma buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live Con questa bellissima canzone che ci introduce a questa nuova puntata Ciao ragazzi, buonasera, dov'è Minecraft? Eccolo Minecraft Eccolo Minecraft che è tornato Come state? Come va? Come la va? Ma prima live del mese questa peraltro, che top Hai mai pensato che c'è scritto si parte in un cartello usato per il segnale di fermarsi? Certo che ci ho pensato Mi piace essere provocatore Volevo fare una roba un po' non so cosa dirti In realtà è totalmente a caso Buonasera a tutti, come state ragazzi? Oggi c'è la Skyblock, non c'è la Vanilla E poi a seguire ovviamente anche Palward E tra l'altro oggi non perdiamo neanche tempo Entriamo subito Perché io ho lasciato il mio personaggio fermo a farmare il ferro Per Un'oretta buona, forse anche di più Vabbè sì, un'oretta buona Perché voglio accumularlo per fare il beacon Quindi ci mettiamo qui E continuiamo il farming Intanto già che siamo dentro Twitch spawn start Così l'evento è già attivo E mentre ci salutiamo e tutto il resto Volendo, se qualcuno deve sabbare Già ci arrivano cose Come va? Cosa si dice? Cosa si racconta? Di bello? Di brutto? Non so come mettermi Mi metterò Così Bella sto visuale Un po' di giorni che non passo Anch'io Sono due giorni In realtà Da mercoledì Iniziato a giocare a Palward Ora tocca recuperarsi tutti i tuoi episodi Dai che sono già undici online Oggi facciamo il dodicesimo Oggi sblocchiamo l'elytra Ma magari Speriamo Speriamo che Che c'è la man di buona Cos'altro si dice qui? Musichetta chill Musichetta chill È bellissima Tutti sti messaggi su Palward Io devo fare le live full Palward Mi state facendo capire questo ormai Quanto spazio libero hai nell'inventario? Cosa devi fare Bicuta? Vado subito a liberare Quanto più spazio possibile Anzi mi metto vicino alle chest Per ogni evenienza Mi hai messo il dubbio Arrivo Ed eccoci qui Grazie Nezza per il Prime Benvenuto Un bel muretto Per cominciare così nel chill Svuotiamo un attimo le cose qui Ecco Questo via Questo via Da posto Aspettiamo qui Bisogna diventare Palward Streamer Ragazzi ogni volta inizio una live Mi parlate solo di Palward È un'ossessione Dopo continuiamo comunque Dopo Andiamo avanti Raccontaci il tuo percorso scolastico e come andavi a scuola No dai Gigi L'ho raccontato mille volte Andavo molto bene Ero il migliore del mio corso Ho fatto informatica Ti dico questo intanto Oddio Bicuta Non stavi scherzando E dobbiamo liberare sì L'inventario qui Bicuta ha donato 25 sub Grazie mille Ma che inizio Sì guarda Conviene Che iniziamo a svuotare Che cos'è? Dronehead Ok Smeraldino Una anvil Zombie fight biglin Ma che sfiga Zombie fight biglin Dai Grazie mille Bicuta 25 sub regalate Salutiamo tutti Fifi Potter Dai Boss Mugetsu Nico Power Final Saprei Marta Shai Obappa Claudio Paccio Curri Galbio Diabetico Sai Simone 866 Doffens Non so come si legga Under the same sky Isa Da Rosa ADG Firefenix Dighigno Er Er Troione Multicablo Samo 167 TH1284 Engravato E bella Fratezio Ma grazie mille Bicuta Per queste 25 sub Allora Facciamo che togliamo Gli alert Così non vi stordisco Quei bro Benvenuti a tutti O bentornati A tutti E abbiamo ricevuto Un bel po' Di oggetti Andiamo a vedere Che cos'è Scopriamo Allora La anvil Ok Muretto Di handstone Un'altra shulker Fa sempre comodo Dripstone block Che ce l'abbiamo già Sì abbiamo un po' Di blocchi Da costruzione Vari Pink petals Purtroppo Li abbiamo già Lana Fa sempre comodo Questo è Legno di quercia Questo di giungla E l'immancabile Grazie mili Per Per i quattro mesi È arrivato Lo spire template Di oggi Che bello Eccolo qui Allora Eh lo so Che sfiga No non è una sfiga Ormai è una cosa È così Cioè È fisso È la quota fissa Bikuta Ti posso Ti ringrazio per le sub Ma ti posso dire Che è andata Davvero tanto Di sfiga Perché adesso Guardando Non abbiamo niente Di Particolarmente Unico Sono uscite Ben due uova di spawn E sono entrambe Uova di spawn Che io già avevo Credo Il droned È il terzo E questo pure È il terzo Ma è una gioia Che dire Incredibile Incredibile Mamma mia Ma come liberati ancora L'inventario Bikuta Tranquillo Che sta succedendo Cricco Grazie dei 46 mesi Ora ti do un bastoncino Mi hai dato Una light blue concrete Adesso Liberiamo sì L'inventario Tra l'altro C'è live train A livello 5 Quindi festa grande In questo inizio di live Liberiamo L'inventario Qua devo rimettere Tutto in ordine C'è poco da fare C'è davvero poco da fare Allora Prendiamo Tutte le cose In legno Questo non è legno E mettiamo tutto qua Quindi iniziamo così Boom Poi Pietra Qui Template È il numero 20 Siamo a 20 Incredibile Cioè Vabbè Io non so più come commentare Sta cosa Gli smeraldi Ottimi Comunque E abbiamo Quest'altro Pezzo D'oro Che In realtà Abbiamo la farm Quindi purtroppo Non è Così indispensabile Prendiamo le pietre Direi Tutte le pietre Questa è molto Ctc Quindi la mettiamo Nella chest Ctc Pietre Shulker Va nei colori Colorante Va nei colori Poi elementi natura Cibo Allora Cibo qui Non ho ancora introdotto la live Tutto ciò Arrivo Adesso Ne parliamo Facciamo tutte Le cose Che dobbiamo fare Queste vanno qui I colori Vanno Qui Ctc Drop Attrezzi Quindi Drop Attrezzi Drop Cibo Me li stavo dimenticando E poi Questa è tutta Vabbè C'è ancora legno In realtà Mi sto perdendo Un sacco di Legno Robbe Del land Crying Obsidian Nether Sapete che mi sa Devo già fare Altre chest Qui Il legno Qua E rimangono Giusto Queste robe Che vanno Nella miscellanea In realtà No Questo va Nella redstone Ok Ok L'ho rimesso In ordine Ce l'abbiamo fatta Questa qui La dobbiamo portare Nel nether Dicevamo Attenzione Stalkabin Eccetera Roger Icristo O Icrosto Raffaele Dorazio Vince Marchese Nicolas Danilo Omma Chris Elvar Miki Yakomaz Miracle W Dr. Malak Kira 45 Bo X-Ed 02 Astro Vinci Mattia 333 Andre Strupe Fabio 5 O Fabio 05 Fisher Spider Ember Resolute Ma benvenuti A tutti Benvenuti Allora Adesso andiamo A fare Così Che vi Vi preservo Un po' i timpani Grazie mille Bikuta Stavo dicendo Come avrete Già capito Lo ripetiamo In caso Qualcuno fosse nuovo Questa serie È una skyblock A differenza Dalle A differenza Dalle O delle A differenza Delle Classiche skyblock Di una volta Questa è una cosa in più L'interazione con la chat In particolare Con i sub Qualsiasi Abbonamento Arriva Durante la live Di qualsiasi tipo O anche donato Come avete visto Io ricevo Per ogni sub Un oggetto Randomico All'interno Del gioco Un oggetto random Tra tutti quelli esistenti Nel gioco Può essere letteralmente Qualsiasi cosa E la lista Ha più di 1200 oggetti Questo permesso Di sviluppare Una skyblock Particolare Lì c'è una strega Che però Non ci serve più Perché ce l'abbiamo Ancora la nostra E Questi sono 25 Novi oggetti Da vedere Allora Prisma In crystal Il ragnetto Ci può servire A qualcosa Il ragnetto Non lo so Non lo so Se il ragnetto Può servirci A qualcosa Forse spaventa Qualcuno Le bacche Le bacche È una new entry Eh sì Le bacche Non le abbiamo Mai avute Tanto qua È cresciuta Tutta l'erba Un bel chunk 16x16 Ricordiamoci Le bacche Non le abbiamo Mai avute Però Quindi Io toglierei Una carotina Al momento E ci mettiamo Le bacche Qui E magari Se prendessimo Un po' Di Ossa Le facciamo Crescere subito Così Non rischiamo Di perderle Le bacche Non sono Interessantissime Per mangiare Perché C'è cibo Sicuramente Più performante Però Diventano Utili Come Trappola Per fare Danno Quindi Top Allora Intanto Lavoriamo Un po' Soprattutto Sui creeper Come ho fatto Prendere il ragno E non il creeper Ci serve Un arco Più forte Di così Mamma mia Che scarso Questo Vai Lo chiamavano Legolas E tu scherzi Ma Mi chiamavano Davvero Legolas Una volta Ma che sei Immortale Te Incredibile Allora Allora Le isole E ho fatto E ho fatto Numerosi Trickshot Nel corso Di video Tant'è che Nei commenti Mi chiamavano Legolas Blaze Quindi Hai detto Una cosa Che pensavi Di dirla Caso Ma effettivamente Mi chiamavano Legolas Pensa te E intanto Finisce Live train A livello 7 Così Per dire Hai mai rilasciato Il tuo pacchetto Shaders Sì Nel tutorial Della Cobblemon Che potete Ottenere Con punto Esclamativo Cobblemon In chat Trovate Oltre alle Spiegazioni Del server Anche Il Anche Le shaders Che sono Per tutti Anche se Non avete La sub Se aprite Il video C'è una Sezione Che riguarda Le shaders Quindi Se vi Interessa Potete Usufruirne Ed eccoci Qui A posto Bene Dicevamo Prima Allora Non mi ricordo più Cosa stavano Dicendo L'ho già Mandato io Il link Del Del tutorial Non serve Rifare il comando Ragazzi Dai Fate I bravi No no Legolas Blaze L'abbiamo detto Nel beacon Adesso ne parliamo Nulla Parliamo Della nostra puntata Allora Siamo abbastanza Avviati ormai Come serie Come vedete Abbiamo diverse cose Ma ci manca ancora Qualche oggetto chiave Ad esempio Se avessi Pecore Mucche Maiali Galline Non ci servono più Però il resto Sarebbe interessante Potrei avviare Delle farm E ottenere Materiale Che per adesso Non ho Che ho Limitatamente Come ad esempio Il cuoio Sarebbe molto Interessante Posso Farmarlo Dai lama Ma è molto Più dispendioso Rispetto Delle mucche Quindi abbiamo Costruito Questa piattaforma Che è un chunk 16x Tutto ricoperto Di Blocchi erbosi E tutto Illuminato Nel bioma Giusto Siamo nelle Windswept Forest Che è Evoluto Dalla skyblock Ed è un bioma Che permette Lo spawn Di questi Mob E potrebbero Quindi ora Sponare Non è detto Che lo facciano Dobbiamo scoprire Se funzionerà Staremo a vedere Nel mentre Continua il trading Goal E Eravamo Da Questo villager Che stavamo Cercando di ottenere Un nuovo scambio Non mi ricordo Cosa stavo puntando Ma dobbiamo Continuare A lavorarci Nel mentre Continuiamo Magari ad aumentare I villager Che stanno nascendo E dobbiamo Ampliare La farm di carote Direi Switchandola Con il grano Perché ci saranno Di più le carote Attualmente Poi Continueremo A farmare Nel nether Forse Ci può essere utile In realtà Si Abbiamo La farm di ferro Da usare Adesso andiamo a vedere Quanto ha prodotto Mentre sono stato Fk E poi Ragazzi Il Grande obiettivo Potrebbe essere Iniziare a valutare Un ponte Per raggiungere Il mondo esterno Quello Richiederà Molto tempo E quindi In caso Dobbiamo Iniziare Molto presto Intanto Attiriamo L'enderman Così L'ho Killo Dov'è L'enderman Ho guardato Si è arrabbiato E ora Non è venuto Quando fanno così Sono una Gran rottura Perché Scompaiono Poi ti Compaiono Addosso Di colpo Ti buttano Di sotto Forse È caduto Lui stesso Però Potrebbe Potrebbe Essere Caduto Lui Facciamo che Non mi Metto Sui ponti Con questo Dubbio E che Lavoriamo Prima il Campo Di carote Che è la Cosa più Semplice Intanto Questo primo Uovo Non contiene Un pulcino Il secondo Neanche Come potete Vedere Non c'è Nessun Pulcino Il terzo Uovo Invece Contiene Un pulcino Che sarà Il pet E la Mascotte Di questa Serie Bastardo Ecco cosa Dovevamo fare In realtà Stavamo parlando Dei drop Che c'è l'altro Bicuta Quindi Oltre A Le bacche Che abbiamo Già messo a posto Abbiamo Questi slab Un pezzo Di Di terra Un blocco D'erba Anzi Un blocco D'erba Vabbè Che meme Un axolot Che potrebbe Essere Effettivamente Un buon pet Abbiamo Terracotta Altro legno Cremisi Colori Altra giungla Cartello banner Blocco Blocco di rame grezzo Di ferro grezzo Che attenzione Noi il ferro grezzo Non possiamo ottenerlo Attualmente Però Non è che ci serva Però Fico Blocco infestato Smiting template Repeating Common block Che non posso usare Chiaramente Ma abbiamo Un common block Un altro Delight sensor Interessante E un oscelot Attenzione Ecco L'oscelot Potrebbe essere Un Un nuovo pet E poi Possiamo fare Crescere le glow berries Volendo Allora Questi vanno qui Questo va qui Però se volessi L'oscelot Dovrei prima Pescare il pesce Perché se voglio Addomesticarlo Ci serve il pesce Allora Ripeto Facciamo una cosa Per volta Prendiamo le carote Prendiamo Di nuovo La Bone meal Ho messo Delle rose Nel cibo Non posso più Addomesticarlo Non diventa Un gatto Eh però Tu l'oscelot Non lo puoi Addomesticare Mi hai messo il dubbio Cioè lo so che non diventa Un gatto Ma si può Addomesticare Comunque Vediamo Teme d'oscelot Ma grazie Igor Per la sab regalata A catapagno Cosa mi ha droppato Andesite Levigata Sto cercando Beh tipo Ancora la cosa Che spaventa I creeper Ad esempio Forse Forse effettivamente Non può essere temato Sono molto Molto deluso Da questa notizia Devo dirvi la verità E niente Il nostro pet Allora sarà L'oscelot Che è successo qui? Bicuta Secondo me Nelle prossime 25 sub Ci sono le litra Ma magari Lasciate stare Bicuta Che ha dato Comunque Lasciatelo In pace Ha dato Direi Abbastanza Ok Buono Per le carote Usa fortuna Mi dimentico Ogni volta Di sto consiglio Allora Per il timing Degli affarini Ci proviamo Non lo so Se volete ci proviamo C'è dell'oscelot Mi sono sabbato Ma non è arrivato L'alert Lo devi mandare tu Stefa Non è che non arriva Lo devi mandare Boom Si va A dormire Allora Ricerchiamo Ricerchiamo un attimo Gli oscelot E scopriamo Cosa mangiano Effettivamente Addomesticazione Si può Addomesticare Ok No Serve pesce Crudo Ah qua parla Che si trasforma In un gatto Ma non si trasforma Più in un gatto Non lo so Non lo so Si beh Nel dubbio C'è la farm No la farm Di pesca No Però abbiamo La pozza Per pescare Quella si Via Cosa sto facendo Aiuto Va bene Direi che al momento Ci siamo distratti Troppo Direi che è il momento Di andare a vedere La farm di ferro Ora Vediamo Comunque Per ricordarlo Dalle sub La cosa più desiderata È effettivamente L'elitra Attualmente Ci sarebbero altre cose Molto utili Però Quello si Però l'elitra Eh l'elitra Spaccherebbe Parecchio Soprattutto per il nether Per la ricerca dei blaze Potrebbe essere molto utile Oh no Si è buggato di nuovo Ma se io Lo frecciassi da lontano Vabbè Non lasciamo lo stare Aspettiamo che muore Non facciamo danni Per niente Come si rifà La sub con Prime Non mi fa vedere L'opzione Questi furbetti Di Twitch Perché questi furbetti Se ce l'hai libera Basta che fai Abbonati Ti esce gratis Con Prime Altrimenti Se l'hai occupata Se l'hai occupata Da un'altra parte Devi aspettare Che ti scada Oli Morto Ok Sì Beh Un'oretta Di Di farming È quello che mi aspettavo Ci sta Più o meno È quello che ci ha dato Anche l'altra volta Quindi Tutto regolare E quindi A questo punto Facciamo così Vediamo quanto Riusciamo a fare Oddio Mi sono visto arrivare L'ennesimo Spire Sono cinque sub donate Di Fabio Grazie mille Fabio Ben arrivato Salutiamo Ataner Gesualdo 90 Iridio 1 Nionio 113 Axel 0252 Però E va così Cosa dobbiamo farci? Abbiamo superato lo stack Intanto di ferro Pian piano si fa Anche il beacon Questi sono davvero troppi Non so più dove metterli I fiori Posso Usarli Nel compostaggio Sì Si gode Grazie mille Fabio Comunque Oggi Oggi Tante sub Sono già arrivate Ma sono molto sfigato Apparentemente No il cimitero dei golem Qua non lo facciamo C'è già nella survival È abbastanza quello Anzi Dovrei un attimo Riprenderlo Allora Ventunesimo Spire Scala del land Fiorellino Che mi mancava Poi abbiamo Un'altra Pointed dripstone Che metterei Non mi ricordo Dove la metto Questa Qua Ma la cosa più interessante È il pezzo di redstone Che va nell'altra cesta Che va tenuto da conto Ma Sempre comodo averlo Detto questo Io proseguirei Dovremmo vedere Per gli animali Effettivamente Ma Prima Il villager Che l'altra volta Non l'abbiamo finito Quindi Situazione è questa Abbiamo bastoncini Per comprare smeraldi Abbiamo mending Che si è fissato a 4 Abbiamo efficienza 5 Lui compra carote Lui ha looting 3 E non so perché ci sia questo Di fianco E quest'altro bro Al momento Ha una break in 2 Che non ci interessa Vi ricordate che Cosa stavamo cercando L'altra volta Come Come Enchant Che stavamo cercando Nulla di specifico No no Stavamo cercando Avevamo un paio di opzioni Non mi ricordo già più Fortuna Ce l'ho già Non ci serve Looting ce l'ho Protection Può servirci Sta sfuggendo qualcosa Ragazzi Mi sta sfuggendo qualcosa Allora Ragioniamo un attimo Mending Top Ce l'abbiamo Unbreaking Si potrebbe far comodo Unbreaking 3 Però non 2 Dai Abbiamo Efficienza 5 Per gli attrezzi E il looting 3 per la spada Fortuna 3 L'avevamo già fatta Per un piccone Ce ne basta uno Quindi si Cercavamo Infinity L'altra volta Sharpness Protection Nessuno di noi Si ricorda Vabbè Diciamo che Dovremmo farci Un po' Tutti i libri Utili In realtà Quindi Resettiamolo Un po' Di volte Vediamo Che ci da Che ci offre E decidiamo Si Sweeping Gadget Ci sta per la farm Ma non è fondamentale Diciamoci la verità Infinity Mi interessava Allora Seal Touch Seal Touch È interessante Come Inchant Però In una Skyblock A che ci serve Seal Touch Ci serve a niente Eh Non ci serve a niente No Sto pensando Ma Non c'è Utile Infinity Touch Possiamo Skipparlo Tranquillamente La terra Non serve Non serve Looting Non mi serve Uno Ce l'abbiamo Già Tanto Stai Stai facendo Un po' Il pigro Non mi piace Sta cosa Impegniamoci Un po' Di più Riptide Sì Ci fai la pietra Però Chi se ne frega Della pietra Quella Poca pietra Che ci servirà La craftiamo Cioè la smeltiamo Tranquillamente Knockback Ah giusto Devo insultarlo Per ottenere le cose È vero Abbiamo imparato Che se tu insulti Villager E le minacce di morte Ti danno le cose Più volentieri Quindi Maledetto Schifoso Proprietario Di multishot Se tu Entro dieci Tentativi Non mi dai Qualcosa di utile Finisci nel vuoto Nel baratro Come chi stava Prima di lui Qua davanti E lui Ne è testimone Puoi chiedergli Eh Piercing 4 Non mi interessa Però Già apprezzo L'impegno Vediamo che altro Offri Piercing 1 Te lo dico Ti butto di sotto Power 2 Impegnati di più Ho detto Di impegnarti di più Signor Villager Lei sta rischiando grosso Lei è a un passo Dalla morte Non va bene Non va bene No Non prenderlo È sbagliato Qua Frost Walker Smite 4 È buono Però in questo momento Non ci interessa Fire protection Fortuna 2 Ce l'abbiamo già Piccone fortuna Infinity Hai mantenuto la tua promessa A 10 Possiamo salvargli la vita Cioè possiamo Non buttarlo nel baratro Adesso però Deve aspettare E non resettarsi Se no Lo butto di sotto Davvero Esatto È perché Appunto Insultandolo Abbiamo ottenuto tutto Quello che volevamo È così che si fa Ragazzi D'altronde Ma grazie Donkey Bentornato Ecco Infinity Noi locchiamo Gli scambi Con questo E dobbiamo Un attimo Lavorarci Per Ottenere Quello che Abbastanza Smeraldi Per farlo E Ecco cosa ci mancava Il diamante Ragazzi Mi ero Dimenticato A noi serve Un diamante Un diamante Per l'enchanting table Comunque Donkey Grazie per i sei mesi Buona live Volevo solo dirti Che la mia ragazza Ha trovato Mewtwo Nella Cobblemon Che bucio Vabbè Ci sta Ma scusa Nel server Giusto Vabbè Sì Per forza Non spona Nella cobblon Normale Nel server Sì Perché abbiamo G addon Vabbè GG Comunque È rarissimo Mewtwo Cos'è che ho ricevuto Da sta sub Tonki Ah La cobblestone infestata Ma gli piacciono un sacco I blocchi infestati A sta serie Potenzialmente Possiamo farci un bel po' Di silverfish Non so cosa servono Ma possiamo farli Buono Ok Allora Come facciamo A Farmare Io ho una mezza idea Il mio piccone Fortunato Che non ha avuto Per nulla Fortuna Fino ad ora Mi darà più di uno Smeraldo Allora funzioni Pezzo di merda Sei Smeraldi Molto bene Molto Molto Bene Sei Smeraldi Mi piace Facciamo così Non ci bastano Per ora Questi mettiamo via Poi Stick Prendiamo questi Questo qui Lo possiamo sacrificare Tranquillamente Ho sbagliato Ho sbagliato a prendere Un blocco Vero Vabbè Finito Ah Questi Devo Prendere E direi Di prendere Altro Legno I bambù Per gli stick È vero Hai ragione Facciamolo subito Ormai possiamo fare a meno Del Del legno Per queste cose Top Anzi Sapete che vi dico Esatto Una farm automatica Potremmo fare Oggi potremmo proprio Occuparci delle farm automatiche Teniamo uno stack Giusto Anzi Facciamo gli scaffolding Subito Che li volevo fare E almeno li abbiamo Mi fai Uno stacchino Almeno di scaffolding Questi via E questi diventano tutti stick Poi Libro Questo te lo possiamo anche togliere Ormai Mazza si ciucci però Mamma mia Eh qua ce n'è uno No prendiamo Prendiamo anche Un po' di legno Allora potremmo Dedicare la puntata alle farm Alla fine dei conti Perché Ora che ci penso È un'altra cosa che Di cui volevo occuparmi Poi abbiamo rimandato Quindi Disse la mamma di Giacomo Mi dissocio da questa dichiarazione Quindi possiamo occuparcene oggi E magari fare una farm Di bambù Volta poi All'ottenimento Degli stick Potremmo metterci Un crafter Ma io non esagererei E la farm di polli Esattamente La farm di polli Per avere la carne infinita A posto Tu tra l'altro Sei vicino al level up E tu Ci darai Il nostro libro infinity Che per ora Teniamo Da parte Servirà Un giorno Lasciamo qui Allora A ferro siamo messi bene Lo sto accumulando In vista di un beacon Ma lo possiamo Tranquillamente Utilizzare lo stesso Qui devo piantare Le due piantine Ovviamente Il villager Che scambia ferro Effettivamente Sarebbe utile Certo Ora che ci penso Ah tu Cambi Cambi di stick Non l'ho ancora fatto È vero Allora Qual è il villager Che scambia il ferro Villager Trades Allora Con la smiting table Vediamo subito Dovrebbe essere Il Non è il Toolsmith E Oddio Come si chiamava Non è Leather Worker Al chierico Ce lo sogniamo L'armorer Ci potrebbe servire Ma non è quello Che cerchiamo Si chiama Allora Non riesco a trovarlo Dove Mizzega sta Quello con la grindstone Il Weaponsmith Prende ferro Ed è l'unico Non è l'unico Aspetta Il Toolsmith Anche Prende ferro E anche Il Weaponsmith In realtà Ok Quindi A noi Quale Fa più comodo Al momento Da sviluppare Dei tre Considerando Che una Spadina Ce l'ho E che Gli attrezzi Non mi Servono Così Tanto L'arco Con Infiniti Ce lo Possiamo Fare Tranquillamente Io Punterei A quello Che ci Dà Le armor Perché Possiamo Magari Ottenere All'ultimo Livello Delle armature Interessanti Per cui Se vogliamo Quello Di ferro Assorbe 4 di ferro Per Uno Smeraldo E si fa Con la Fornace Blast Quindi Lui Effettivamente Ci sarebbe Molto Comodo Per Gli Scambi Perché Ci permette Di 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 Convertire Il ferro E noi Ne abbiamo Davvero Tanto Però C'è Un C'è Un Però E ora Sto per Cambiare Nuovamente Idea Su quello Che facciamo Oggi Però Ascoltatemi Un villager Del genere Quanto Quanto Sarebbe Più Conveniente Se fosse Uno Zombie Dezombificato Potremmo Riportare La strega E provare A Dezombificarlo Scambia Un ferro E uno Smeraldo A me Sta cosa Mi attira Abbastanza Ragazzi La strega È ancora Qui La strega Ci aspetta E Io Ho L'uovo Questa Volta Ho L'uovo Di Zombie Villager Potremmo Provare A fare Sta Cosa Potremmo Provare A ottenere Un villager Dezombificato E Vedere Di Di Sfruttarlo Per bene Se vogliamo Fare Sta Cosa Ci serve Una Mela D'oro E un Po' Di Pazienza Andiamo A prendere Andiamo A prendere L'oro Un sistema Comodo Sì Sarebbe Comodo Appunto Attualmente Non l'abbiamo Me ne pentirò L'avete Proposto A voi L'idea Io volevo Fare La farm Di Polli Però Se facciamo Sta cosa Effettivamente Ci conviene Anche rispetto A una farm Di Bambù Probabilmente Anzi Senza Alcun Dubbio Quindi Mi vale La pena Poi faremo La farm Di Polli E Dato Grazie A Edward Con I 34 Mesi Bentornato Mi hai Dato Un libro Che fa Sempre Comodo Ci Sta Allora A parte Non mi sono Portato La roba Da smeltare Però Siamo Già Posto In realtà Easy Aspetta Questo Lo possiamo Lasciare Qui Le balestre Come carburante E' vero Si potrebbero Credo Sfruttare Non sono Certo Sono Di Legno Quindi Forse Si Allora Mela Mela D'oro Ci siamo Allora Noi abbiamo Già Lo zombie Villager Abbiamo Già La strega E Abbiamo La mela Durata Abbiamo Tutti Gli ingredienti Dobbiamo Solamente Fare La Trasformazione E Per Farla Dobbiamo Tirare Fuori La Bastarda Dal Suo Boco Che Non è Proprio Quello Che Avrei Voluto Fare Però Altrimenti Potrei Fare Un sistema Un po' Più Comodo Cioè Potrei Magari Andare Sottoterra Mettere Lo zombie Villager Lì E Cercare Di Potrei Usare I cart Sì È Vero Vediamo Andiamo Giù Allora La strega È qua Mestri Che È qua Se io portassi qui Lo zombie Villager Potrei Tecnicamente Tentare Di fare Quello Che Dobbiamo Fare Senza Senza Smattare Troppo Posso Rischiare Di Morirci Perdo L'esperienza Ma Guarda Dove è costruita Dove è Sponata Questa No ma che Anche L'armatura Se la perdiamo Non è un grosso Problema Anzi È meglio Tenerla Ci facciamo Un bel Muro Poi riportarlo Su Sarà Facile In realtà Basta Che Gli facciamo Una Scala Cioè Appunto Minecart Tranquillo Allora Guardate Un po' Bentornato Stefa Grazie Nove Mesi E mi hai droppato Il rame Classico Classicissimo Rame Ok Quindi Tecnicamente Noi possiamo Metterci qui Con lo zombie Farci lanciare La pozza Dalla strega E basta Lo zombie Basta che lo mettiamo In una barchetta Inizialmente Possiamo anche Chiuderci dentro In realtà Se noi Facciamo una roba Così Posso Metterci Dalle porte Non mi sembra Niente Di infattibile Mettiamo Qui Dalle porte Sopra Tappiamo Magari Non così Ma si Rai Io direi Direi che si può fare Direi che si può fare Assolutamente Quindi Mettiamo via Queste cose E Consideriamo Quindi Che ci serve Lo zombie Nella barchetta Ci serve Il piccone Come funzionava Poi Tutta Tutto il fatto Della strega Io devo Starle Vicino Ma stare Vicino anche Lo zombie Ma non troppo Perché se no Mi colpisce Devo far sì Di colpirla Io Se la colpisco Lei mi avvelena E quando sono avvelenato Poi spara Da prendere Qui sono Super easy Cioè ci mettiamo Davvero Un nulla Questa la metto Qua Poi facciamo Le porte Così Eh Vado a prendere Lo zombie Cioè in realtà Secondo Secondo me È meno peggio Del Di quello Che pensiamo Si sta nel chill Allora Giusto per Rendere un po' più sicuro Questo lo mettiamo qua Cibo Possiamo lasciarlo Tutto giù Mi serve Il piccone La barca Cioè per ora Mi serve Questo Piccolo problema A posto A posto Preso È uno zombie villager Senza lavoro Questo Allora Io ragazzi Non so se rimane Senza lavoro Perché nel caso Mi metto a piangere Però Quando i villager Hanno Il costumino verde Sono villager Che sono senza lavoro E che non lavoreranno mai Questo è uno zombie villager Verde Potrebbe rimanere così Ma ci rendiamo conto Ci rendiamo conto Di cosa è successo Cioè Bello È raro È tutto Rarissimo Probabilmente Non so quanto sia raro Sto schifo Ma è uscito verde E non c'è la spreco Neanche la La mela A sto punto Senti Bomberissimo Fammi andare Va Per ora Ti lascio qui Oh Mio Dio Non è possibile Se mi dite che rimane così Rimane così Quindi dobbiamo cercare Un altro zombie villager Oppure Farne zombificare uno Esisterebbe Esisterebbe anche questa possibilità No? Che dite? Proviamo? Tanto Cioè Morirà sicuramente Perché mi deve andare Tutto di sfiga Però Più che morirmene uno Non può succedere Allora Sistemiamo tutto Però ragazzi Davvero Io Io non so Come Come possa succedere Tutta questa Sfortuna Una di tra l'altra Cioè È una roba incredibile No Non metto in hard Per assicurarmi Di Di convertirlo Non mi interessa Giochiamo La modalità In cui siamo Ci prendiamo Il rischio Non si cambia modalità Perché fa comodo Se no Mi metto in peaceful E Sconfiggo il drago In peaceful Cioè Che despona Cosa vuol dire È lo stesso discorso Vabbè Tiriamo giù Un albero Sì però Ragazzi Cioè Non si può Che non deve mai andare bene Niente È una cosa incredibile Allora Pausiamo un attimo Villager Zombification Allora Varianti In realtà Non trovo niente Sulla wiki Dello zombie Senza lavoro Però Mi fido di voi Quindi Allora Se zombifichiamo Il villager C'erano delle Condizioni da rispettare Mi ricordo Però Chiaramente Se cerco informazioni Mi dice come si cura Non mi dice come Zombificarlo Ragazzi L'axolot Sarà rosa Non sarà mai Nella vita Blu Andate tranquilli Allora Non saprei Come cercare Non saprei come cercare No No Non è questione Di farlo ammazzare Bass C'erano dei requisiti C'era qualcosa Che riguardava La distanza Del villager Vediamo Ragazzi Eh ma non mi dice Eh ma non mi dice Niente Vabbè Non lo so Allora 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 la distanza Serviva Perché se no Lo zombie Attacca a me Sicuramente Però c'era Dell'altro Io ne sono Abbastanza sicuro Se stavo Troppo vicino Lo zombie Attaccava a me Non si cagava Il villager Se stavo Troppo lontano Lo zombie Uccideva sicuramente Il villager Avevamo avuto Un problema Per sta cosa Però io non mi ricordo Come erano Esattamente Le distanze Metti lo zombie In un kart E un secondo kart Ci mette il villager Vicino Tu non devi Farti vedere Non devi fare vedere Dallo zombie Beh Perché la barca Non dovrebbe funzionare Però Cominciamo a prendere A catturare uno zombie Va Lo metteremo Qui sotto Siamo attenti Perché è Sponata Anche Una strega I quali rompono Le palle Tantissimo Ecco Addio Vabbè Fa niente Fa niente Abbiamo perso Le frecce Ma le rifarmiamo Era l'unica Cosa che conta Il ferro Lo abbiamo Non è un problema E Questo è un problema Sono desponati tutti I livelli Sti cazzi Li rifacciamo in due secondi Non è importante Mi scoccia solo Per le frecce Tranquilli Zombie Cioè Sapevo Che sarei stato frecciato Per carità Però Sti cazzi Venga Dai che sono qui Dai che sono qui Non fare il pirla Non farò mai Un ponte decente Ovviamente Vieni qui Ok Allora Rifacciamoci Un attimo Le cosine Quindi Quindi L'arco Ce l'abbiamo Le frecce Ce l'abbiamo No in realtà Ragazzi Siamo proprio A posto C'ho tutto C'ho anche le frecce Le messe da parte Allora A posto Dovrei Mi rifaccio Qualche torcia Ma sì Adesso non serve Neanche Così A posto A posto Ci siamo Ci siamo Allora Quindi Proviamo a fargli Cart O proviamo Semplicemente Ad avvicinarli Vediamo che succede Se io li avvicinassi E basta Non si toccano No Tanto In tutto ciò Sapete già benissimo Che col culo che ho Il villager morirà Effettivamente I due Non si stanno Cagando Di striscio Brother Te lo sto servendo Su un piatto D'argento Dai Mangiatelo Sto zombie Sto villager Dai Fa il bravo E che I zombie Hanno un aggro Esagerata Hanno proprio Un aggro Della madonna Più vicini di così In barca Non posso mettervi Io ho paura Che mi muoia Off camera Io mi ricordo Che c'era un problema Di questo tipo Però Che cazzo Che strano Che strana Prospettiva Vedo gli zombie Che sono Nella piattaforma Dietro Con lo zoom Guardate Che prospettiva Strana Proviamo a tornare Non mi hanno cagato Va bene Sì proviamo a chiuderli Proviamo a chiuderli Allora Facciamo qualche blocco Di pietra Va Anzi Dovrei avere il legno A posto Meglio Cioè io Sono riuscito A prendere danno Mentre passavo Su un arboscello Perché in quel momento L'arboscello È cresciuto E mi sono preso Un'alberata Una querciata Nei coglioni Ma basta È già la seconda volta Che succede In sta serie Ma Ma possibile Che devo sempre Beccarmi gli alberi Nel mento Non è possibile Cioè non si può Dopo un po' Ogni volta Deve andare sempre Tutto male E allora Una cosa incredibile Comunque Un po' Un po' nel mento Un po' nel membro È andato Questo è pericoloso Parliamo di qualcosa No Sono arrabbiato Non parleremo di nulla In questa live Silenzio stampa No Non è possibile Guardare il cielo Comodamente Attraverso la bocca Di un enderman Ci ho provato Ma non si riesce Mito sfatato Allora Qua copriamo Un attimo Perché Manca Il tetto Se no mi bruciano Ok Sta succedendo La magia È morto È morto Non c'è Raga Non c'è Modo Che vada bene Qualcosa In sta serie Deve andare Tutto male Il villager È morto Basta La magia Della morte Sì Ci proverò ancora Certo che no Tanto Andrà così Andrà sempre così Cercheremo di salvare Un altro Zombie villager Il problema è che Adesso che ho Accarezzato l'idea Di fare sta cosa Io voglio farlo Lo zombie villager Non è giusto Che sia andato così Non è giusto Che lui sia morto Che quell'altro Non ha lavoro E non vuole lavorare Vuole il reddito Cazzo ne so io Ma dai Quando mai si è visto Uno zombie villager Che non vuole lavorare Ok Farm di cibo Nel mentre Noi dovremmo Testare Questi Gli animaletti Dovrebbero poter Sponare Ora Si parlava di una Distanza di blocchi Di una ventina Qui siamo a Meno tre Qui siamo a Ventinove A questa distanza Lì Dovrebbero poter Sponare gli animali Togliere le torce Danno un fastidio Proviamo a togliere le torce Cambio un cazzo Ve lo dico subito Si è mai visto Che devi togliere le torce Per fare una roba così Eh si finché giorno Si può fare Poi quando è notte Diventa un po' un problema No non occupano i blocchi Non credo che occupi Nei blocchi Quindi Stando così Tecnicamente Dovrebbero poter Sponare questi animali Che Non escono Io Non lo so ragazzi Come funziona Per gli animali pacifici C'è chi mi ha detto Che Sponano molto raramente E se così fosse Sarebbe un bel problema E Forse Dovremmo semplicemente Aspettare tanto Cioè è tipo un evento Che potrebbe capitare Ma non è facile Che succeda Potremmo provare a salire Si magari salendo Ci leviamo dalle scatole Triggera qualcosa Un tentativo che si può fare Vediamo Togliamo un attimo Questa torcia Potremmo addirittura Crearci una piccola zona Qui Poi ci buttiamo Di sotto Nella piscina Direttamente Ecco Le entità le vediamo Quindi se dovessero Sponare Vedremmo anche loro Credo che se restassimo Così Per un bel po' di tempo Potrebbero effettivamente Sponare Nel mentre Guardate la meraviglia Un Iron Golem Sta morendo Cioè Quella farm Funziona Anche mentre io sono qui Non so come Ma è una cosa bellissima Che sarà la texta del prato È vero Visto dall'alto Crea degli zig zag Stranissimi Ci saranno troppi polli Potrebbe anche essere Beh intanto io Rimetterei le torce Perché comunque Non possiamo Non averle E dopo di che Pensiamo a questa farm Così dovrebbe già essere Ben illuminato Credo Mi serve questo qua Chiudi Quello lo lasciamo Farm di polli Pensiamo a questa farm di polli Cerchiamo di Portarci a casa Un risultato positivo In questo episodio Sfigatissimo Cioè Se vi siete appena Connessi Io stavo cercando Di salvare Uno zombie villager Ma ci è spunato così Uno zombie villager Vestito di verde Quindi Se lo riportiamo in vita Diventa un villager Che non vuole lavorare Il che è Una cosa Incredibile Non Non ho parole Per descrivere questa cosa Ah E poi Già che ci siamo L'axolot Nel secchio Sarà blu No È rosa Palesemente Mettiamola nella piscina grossa Aspettate Così Ha più spazio È rosa È rosa È effettivamente È rosa Ci abbiamo Azzecchiato Perfetto Allora Come si fa Una farm di polli E soprattutto Dove la facciamo Io ricordo Che Avevo fatto Una farm di polli Un sacco di Tempo fa Che funziona Con Una piccola Aria Dove i polli Vengono Accumulati E sono Purtroppo Molto stretti Fanno le uova Quando l'uovo Passa Nella trapdoor Nella tramoggia Nell'hopper Parte poi Un segnale Che fa sì Che dal dispenser Butti fuori L'uovo Poco dopo L'uovo viene buttato In una seconda Cella di contenimento Dove questa volta C'è un mezzo blocco E sopra E sopra c'è la lava Tanto bassa Per far sì Che il pulcino Ci stia Senza bruciare Ma appena cresce Il pulcino Va nella lava Schiatta E la carne E la carne E la carne Direttamente cotta Finisce sotto È ecosostenibile I polli sono felici Sì È assolutamente Approvata Dalla PETA Questa farm Scherzo Non denunciatemi Vi prego No però Siamo su Minecraft Quindi sti cazzi Degli animali Io amo gli animali Nella vita reale Ma su Minecraft Possono tutti bruciare Per accumulare carne Nelle mie chest Dove non userò mai nulla Ma giusto per una questione Di soddisfazione personale Questa è la verità Ora il problema L'unico problema Era che non ricordo Come funzionava Il discorso Dell'attivazione Della lava E sì Il fatto che Se mi fanno più uova Contemporaneamente Magari non vengono Buttate entrambe Chiaramente serve La redstone Grazie Al cazzo Però dobbiamo fare Un circuito fatto bene Prima di tutto Partiamo dalle basi Quindi creiamo Una zona dove farlo Probabilmente qui dietro Direi Così che loro vedano Il loro futuro Il futuro della loro prole Perché useremo le uova Zombie villager Figurati E E niente Ci serve Ci serve ovviamente Della pietra Quindi vai di Non questo Ma vai di questo piccolo Allora Allora la lava fissa Si può tenere Però Io ricordo Che con la lava fissa C'era il problema Che Mi bruciava I drop Mentre Mentre Dando un impulso di lava Di un tot Dava fuoco Ai polli Però poi la lava si toglieva E i drop Erano Erano Sicuri Cioè Erano drop Sicuri Non rischiava che Magari Vedete come saltano in aria I drop Cioè non rischiava che La carne saltasse sopra E venisse presa dalla lava Però si Possiamo anche Fare la versione Meno efficiente Al momento E Tenere la lava fissa Vediamo Sicuramente ci risparmiamo Un Un problema Però Diciamo che Il Tic di lava Non era il grosso problema Il problema Nostro È Fare Il meccanismo Che adesso Non mi ricordo Come si fa Esattamente Non Quello che spara L'uovo Quando scende Che ha una stronzata Da fare Cioè l'uovo va giù E viene sparato Ma se Vengono sponate Due uova Insieme Quindi la tramoggia Assorbe Due uova L'impulso Ne spara una sola E la seconda Resta inutilizzata All'interno del dispenser Certo Possiamo fregarcene E fare che Dopo un tot Noi passiamo E tiriamo noi Quelli Che avanzano Ma nella survival Io ho fatto un circuito Che permette di Di Permetteva Perché poi l'ho cambiato Di sparare tutte le uova contenute Quindi finché Finché la tramoggia Conteneva uova Mandava Impulsi A profusione Le sparava tutte Non mi ricordo Questo circuito Perché Devi fare un giro strano Con i comparatori Che adesso Non mi ricordo Però Anche quello lì Possiamo farne a meno Possiamo fare La versione chip Da 4 soldi Che funziona ugualmente Siamo nella skyblock Perché no Va bene così 63 Vanno benissimo Bene Quindi Mettiamoci qui Ci Allunghiamo Di un 5 blocchi E allarghiamo Tutto Sì se sentite Lo zombie È Quello Nulla facente Esatto Non è meglio fare La survival Di venerdì E la domenica Skyblock No No Perché Cos'è questa osservazione Cosa vi cambia Francesco Perché Come ti permetti Non ti permettere mai più O i miei moderatori Ti banneranno l'istante Soprattutto Marty Ti sta già puntando Una pistola Alla tempia Figurativamente Parlando Metaforicamente Twitch Ovviamente E poi È lei Che è cattiva Io non c'entro niente Sia chiaro Io sono Una brava persona Quindi Ci metteremo qua Andiamo a fare Lo corrente Zombie villager No No Figurasi Se mi bannate A me Non ho detto Nulla di male Eh vabbè Niente L'ironia So che È difficile Da comprendere Mi spiace Per questa volta Ti salvi Per questa volta Ma non chiedere mai più Cambi del programma Se no Marty Ti acchiappa subito Sì sì Io stavo scherzando Ma lei non scherza Stai attento Allora Ci serve Tramoggia Due Dispenser Uno E poi ci pensiamo Quindi Quindi Ceste In avanzo Ovviamente Non ne ho Mi serve Ancora Alcuni di questi Ok Dunque Il dispenser Non mi ricordo mai Se mi richiede O no La redstone Però Tecnicamente Come cazzo Funzionava Così Me lo prendi L'arco Consumato Vero Sì Bravo Dispenser Ok Poi Questa in realtà Abbiamo già Le chest Che casino Sto facendo E poi in realtà Mi serve Un'altra chest Quindi Quindi Allora Vi la mettiamo proprio Vicina Appiccicata Devo proprio Vedere Cosa succede Agli altri polli Qua Quindi qua Ci va la carne Così sentono anche L'odore di pollo bruciato Possibilmente Qua ci va la carne Tramoggina qui Qui è dove Mettiamo i pulcini Quindi qua ci va Il mezzo blocco Subito dietro Ci andranno Ci andrà Il dispenser Quindi il dispenser Spara Direttamente Qui dentro Qua sopra ci va L'altra tramoggia E qui sopra I polli iniziali Ok Ora Essendo che ci va La lava Converrebbe Ovviamente Non fare nulla Di legno Sarebbe carino Mettere Del vetro Non vogliamo Sprecare del vetro Ma noi abbiamo Un sacco di vetro colorato D'altronde Giusto? Tipo il vetro arancione Va benissimo Quindi usiamo Questo vetro arancione Che ci avete Mi avete consegnato Voi Con le sub Grazie ragazzi Poi prendiamo Altra pietra Sì sì Per ora La Lava La mettiamo a mano Sì Ehi I mob sull'erba Al momento Non sono sponati Purtroppo no Io già che ci sono A fare una farmatina Di questi Che poi sono utili Per gli scambi Bene Poi Quindi possiamo iniziare A settappare tutto Poi Ah avete fretta Di darmi le uova Non volete entrarci voi Nella farm Furbacchione Dicevo Questo lo voglio recuperare Un attimo Blocco d'appoggio Qui sopra Vetro Blocchi Vabbè Questo andrà sotto Chiaramente Così non li facciamo Saltare fuori Qua possiamo già iniziare A sparare le prime uova Ma ovviamente Non esce niente E magari qui Una bella Trapdoor Per poter Accedere In caso Di necessità Quindi magari Se ci mettiamo Anche delle scalette Per salire Non è male Come cosa Ci mettiamo Questa qui Anzi Questa qui Che magari L'altra brucia Il tappeto Non ci interessa Mettergli il tappeto Allora Facciamo altre scale Mangiamo Mangiamo Ok Allora Qui sopra Quindi Trapdoor Ci sta E ora Raccoltona di uova Spegniamoci a farne Delle altre Qui Come cazzo Ti permetti Di fuggire Vieni qui Che sia Ad esempio Guai a chi Scappa Questo Era il vostro Amico Gianfredo Non tentate Mai più La fuga Finirete Come lui Bene Ora che hanno Imparato La lezione Vediamo I primi Volontari Oh Lì Guarda qua Però Un pollo Solo Anzi Un pulcino Non è che Non è che ci basta Sarebbe stato comodo Portare su loro Però dovrei fare Tipo Una scala Per polli Cioè Cosa mi invento Se costruissi L'intera farm Sotto Li butto dentro Che cos'è Phantom Brex Grazie di 33 mesi Quando la prossima live Sul server Vanilla Eh Live sul server Vanilla Non le sto Proprio facendo Da Da un bel po' Di tempo Al momento Non sono in programma Serve Serve il content Bisogna fare content Che le ultime volte Che passavo Non c'era Molta roba Per fare Tour E cose varie Appena Facciamo un po' Di content Vabbè Ormai La teniamo qui La formettina Pian piano Riusciremo a Ecco Sono già due Poi li possiamo dare Semini Appena crescono Quindi Quando il loro uovo Passa qui sotto Deve venire sparato Però deve venire sparato In una situazione Di Non lo voglio Gianfredo Tenetevelo Io non mi mangio Gianfredo Lo conoscevo Quel pollo Cazzo Vi pare che potrei Mangiarlo Allora Vetro Per vedere La situa Chiudiamo Tutto Così E lava Cioè lava Dopo Qua mettiamo Il mezzo blocco No Ce li ho già I secchi di lava Sì Eccoli Li avevo preparati Bene Quindi la lava Va Messa Qui Boom Non Scorre Non brucia Gli altri polli Ma quando i pulcini Che finiranno qui Cresceranno Verranno Ovviamente Abrustoliti Leggermente Scottati Ora Ci serve Il circuito Dobbiamo fare in modo Che Quando Qui Arriva un uovo Cioè quando Passa da qui Un uovo Questo Li cacci Il Il tick Per farlo uscire Ok i pulcini Saltano di tanto E' quello che dicevo Prima Dovrei mettere La lava Che esce solamente Ogni tanto Non dovrebbe stare Fissa Però Per ora Facciamo la versione Che Poi Vediamo Ah Dite manuale Cioè proprio L'attivo io A mano Osti Che brutta cosa Allora Tecnicamente Quindi Dobbiamo fare Che quando Passa L'oggetto L'oggetto Viene Sparato Possiamo Fare Una roba Forse Con l'observer Ce l'ho Un repeater Ecco il cazzo Che c'ho Un repeater Vabbè Lo craftiamo Perché tanto Vuoi che non serva Un repeater Prima o poi Proviamo un attimo Così Tu Mi vedi Il blocco Attivi Questo Questo Me lo porta Il segnale Così Vediamo Facciamo una prova Non lo so È una prova Proprio Mai testata Infatti Non funziona Palesemente Non vedo Una sega In tutto ciò Quindi facciamo Un attimo Così No Non si accorge Neanche Che passano Quindi Non va bene Questo L'observer Non vede La tramoggia Mi serve Il comparatore Andiamo a prendere Ragazzi La faccio Come dico Io la farm Non voglio Essere sgarbato Ma non leggerò I consigli In chat Adesso Mi focalizzo Sul circuito Perché Non ho bisogno Di maestri Sto giocando Mi sto Chillando Su minecraft Lasciatemi fare Grazie Quando si fanno Circuiti So che C'è sempre Un po' Quella cosa Lì Quindi Evitiamo Allora Comparatore Quindi Comparatore Mi manderà Un segnale Risicatissimo Dovrei allungarlo Con Con il repeater Giusto E beh Però A sto punto Tanto vale Che Non so Come Compattarlo Tanto Mi vale Fare una cosa Un po' Un po' Grezza E dai Fammi salire Su E che Santo cielo Ho bisogno Di Risparmiare Redstone Non posso Sprecarla Però Tecnicamente Se io Gliela Porto Qua Un po' Devo capire se così si può fare Sto cercando di capire come risparmiare Il più possibile Ah ma il comparatore è storto So io che Che non sta andando una sega Ok Non ho visto una sega ancora Ma Non si attiva nulla E così si però Se ne passa uno solo non si attiva Perché? Allora Bisogna di lavorarci un attimo Nel chill Così Se no non ci capisco niente Eh mi sa che è troppo veloce si Eh vabbè ragazzi La skyblock È così che funziona Cose semplici Bleh Imprevisti i casini Godo Assolutamente Fatevi avanti Ballo del Godo Eh mi cadono i polli Se tolgo quello Allora prenderò questa tramoggia qui Ah Non mi farò fregare Stavolta Messo Come va il lutto per Gianfredo Tutto a posto? Avete accettato la sua di partita? Qua la luce? Light 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 Non mi ricordo mai dov'è Blocco 7 Sì a posto Ci basta Allora ci mettiamo un attimo qui Quindi noi abbiamo questa situa qui Dispenser Ho messo a caso Non mi interessa Questo Ok Perché questo qua Non mi si illuminava? Eh ok 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 Quindi se li cade dall'alto Effettivamente va Ok Niente Abbiamo capito l'arcano Allora adesso cerchiamo di riprodurre un attimo quel pezzo Di circuito In modo da Vedere se funziona Ok Quindi noi dobbiamo sparare via questo Qui ci mettiamo Il comparatore Anzi Anzi Ok Qui Poi Primo problema È il comparatore Così Il segnale me lo fa troppo veloce Non sembrerebbe Se quindi Io Glielo porto A un blocco Il blocco Mi passa sotto il segnale Ce la fa Non ce la fa È troppo debole Quindi il repeater Non possiamo non metterlo Ok Quindi Dobbiamo metterci Un repeater qua Il repeater Va portato qui Qual è la strada Più veloce Cioè Qual è la strada Meno Dispendiosa Di redstone A me interessava Prima capire Se ad esempio Posso fare Una roba Così Non così Certamente Così Vediamo se funziona Ok Funzionale Funziona Quindi Questi due Non li possiamo Non possiamo farne a meno Abbiamo detto Questo qui Ci Assorbe il segnale Lo rimbalza Direttamente sotto Questo lo trasmette A quello sopra Però Sti tre pezzi di redstone Non posso Accorciarli No Siamo arrivati Quindi A una sintesi Credo Che non Non posso Fare meno di così Attualmente Con quello che abbiamo L'observer Però Beh Forse È meglio Tenercelo E usare La redstone Credo Che sia così Allora I due blocchi Se butto Dentro due blocchi Dovremmo avere Il problema Ne sputerà fuori Uno solo Ne mettiamo Quattro Guarda Anzi Non li ha sputati Ma in co Perché questo Deve avere Un ritardo Se li mettiamo In ritardo Mi sputa Mi sputa fuori Quello che ho appena Buttato Ma se gliene Droppo due Me ne sputa Uno solo Guardate Perché Non c'è La Non c'è Il controllo Che vi dicevo Prima Che In questo caso In realtà Andrebbe fatto All'observer Cioè finché L'observer È pieno Deve poter Sparare fuori Ma se io Mettessi Questo Che ho detto Observer Intendevo Repeater Però c'è un motivo Se mi sono confuso Se io mettessi Questo qui E Eh Attenzione Perché se io Li metto L'observer A ogni cambio Di stato Quello spara Quindi Se li faccio Così Se io li faccio Un sistema Del genere A parte Che sicuramente Il segnale Non fa manco In tempo Di andare sotto E infatti Così Il repeater E il problema È che L'observer Ha un segnale Troppo debole Sì Infatti Vabbè Adesso qua Non stai vedendo Niente Però Non sta facendo Una sega Sì Non è Non è Fattibile Dobbiamo fare Questa cosa qui Quindi tre pezzi di redstone Comparatore Repeater Meno di così Non posso fare Siamo arrivati Al limite Cambio di stato Sì Che Vede È lo sparo E non il riempimento Per cui Sarebbe un circuito Da fare in più Nel caso Che noi ci risparmiamo E basta Cioè Non stiamo lì a farlo Piuttosto Quando questo Lo vediamo pieno Togliamo Togliamo le uova Andiamo su Le ributtiamo dentro Tutto qua Quindi Lavoriamo noi Gli eccessi Tanto se vogliamo Fare La lava a mano Tanto vale Che Facciamo anche le uova Quindi Ricostruiamo tutto Questo va qui Questo è tutto a posto Questo Era così Poi Dobbiamo mettere Due blocchi qua Li mettiamo Uno E due Il blocco qui E poi Così Uno Due E tre Di Peter Ritardo E ci siamo Mettiamo Mettiamo Questa ciotola Di controllo Ora Se io da sopra Gli faccio arrivare Un uovo Ha sparato E la ciotola È finita qui Quindi funziona Sì Questo è il circuito Migliore Che possiamo fare Mancano un sacco Di pezzi Però Farà il suo Ci sta bene Quindi cerchiamo Di riempire Bravo Polletto Subito Ma Porca Troia È morto Mamma Che stupidi Che sono Niente Io ti avevo Avvisato Io ero stato Molto chiaro Quando ho detto Di Gianfredo Perché stai Facendo tutto ciò Eh Ludovico Come ti permetti Signori Signori polli La vostra rivolta È stata sedata Mi dispiace Questo era Ludovico Ricordatevi di Non tentare Mai più La fuga O finirete Come Ludovico In tre pezzi Raisen Grazie dei 29 mesi Bentornato Ok Iniziate a essere Già troppi Non so dove Spararli Devo fare Un tunnelino Di ingresso Più alto Mi sa Sette Bene Bene Iniziamo ad accumularli Molto molto bene Quando saranno Tanti Tipo Una ventina Inizieremo A produrre Seriamente Guardate Quante uova Fanno loro Quindi se loro Iniziano a spararle Qui Diventa interessante Potremmo mettere Il tic Di lava In automatico Allora Tecnicamente Se vogliamo Farlo Potremmo mettere Un observer Che detecta Quando spara Il dispenser In automatico Attivo Un altro Dispenser Che gli da Il tic Di lava Però Quel tic Di lava Poi deve Essere dato Una seconda volta Perché la lava Dopo un tot Deve tornare indietro Va un attimo Studiata Come farla bene Come consumare Il meno possibile Tanto io qua Tapperei Per sicurezza La farm è pronta Per il resto Dobbiamo solo Aspettare Che si riesca A riempire Di polli Intanto possiamo Dargli semine Volendo Quando il dispenser Spara L'observer Da due tic Non lo so Vediamo Possiamo Vedere Prima Ha dato Due tic Ma Non sono Sicuro Che Fosse Cioè Non fosse Un caso Ok Da due tic In realtà Però Sono due tic Molto veloci Non le servirebbero Due tic Lenti Cioè la lava Deve uscire Deve rientrare Ma deve Deve stare fuori Un secondo Buono Forse anche due Secondi Cioè devi dare il tempo Di Oddio Però se gli da Giusto una Brustolita Veloce Proviamo Proviamo E basta Facciamo una cosa Veloce Dai No forse La scottatina Li basta È vero Perché Sono polli D'altronde Dovrebbero morire Abbastanza in fretta E che mi va via Un'altra Un altro pezzo Di redstone Beh Allora Andrebbe messo qui L'altro dispenser No L'abbia messo su Stavo facendo un errore L'abbia messo su Non così Così Ok Quindi Come facciamo a collegarli Nel Modo più veloce Possibile Nel mentre qua c'è già un uovo E non ha sparato Perché non ha sparato L'uovo Perché ne hanno cagati due Boh Iniziamo bene Questo output Deve entrare qua Potrebbero servirci Potrebbe servirci Un altro repeater Al posto della ciotola Potrebbe essere Potrebbe anche essere Allora Adesso Ludovico L'altro Jumpirla Non vi hanno insegnato Niente Io capisco Tu morirai Nel vuoto Sarai il sacrificio All'abisso L'hai voluta tu Ah Non vuoi essere Il sacrificio All'abisso E allora Guardatelo molto bene Mentre lo eseguo Davanti ai vostri occhi Sarà comunque Sacrificato All'abisso Come era stato Segnato Nelle antiche Scritture Intanto ho sparato Un uovo Lui era Jumpirla Secondo Dai che devo andare Su pallward In tutto ciò Devo andare Su pallward E non sto capendo Come fare Sta cosa Allora Abbiamo bisogno Di prendere Il suo segnale E di portarlo A questo dispenser Lo porteremo Al blocco sotto Perché qui Dobbiamo chiudere Per farlo girare Probabilmente Così ragazzi Ho bisogno Di sprecare Redstone Io non ho più torch Però Mi servirebbero Tre pezzi di redstone E un repeater Non ho abbastanza Redstone Per farlo Semplicemente Il segnale Dell'observer È troppo debole Quindi se non Li metto Il repeater È un casino Come cazzo Faccio Allora Mi gioco Un pezzo Di redstone Con una torcia E voglio capire Se io Li facessi Una cosa Non lo so Qua sotto Allora Questa No Qua sotto Ci deve stare Per forza Mi sa che non lo alimenta Però così Se questo fosse su Un tick Che gli è arrivato È però Il contrario Di quello che devo fare È il contrario Non funziona Così È appena È appena uscito Un pulcino E non Non ha funzionato Non si può fare così Allora io so come farlo Lo so Però Però mi manca Mi manca Mi manca Un pezzo di redstone Mi manca Non posso Crearlo Perché Tecnicamente Noi Se facciamo Dobbiamo far girare Contro qui Il segnale Non ho modo Di Di fare Chissà che Che giro strano Due blocchi Uno dietro L'observer E uno di fianco E due di redstone Sopra Forse hai ragione Igor Forse hai ragione Oh Salve Addirittura Questo Questo forse Potrebbe funzionare Il problema Rimane sempre Il fatto Intanto andiamo a dormire Va O lo uccidiamo Uno uccidiamolo Magari Per lo sfizio Questo pensa di fare paura a me Di dirmi di dormire Io non dormo mai Non dormo un cazzo Non mi puoi fare niente La notte È il mio ecosistema Tu Puoi solo stare a guardare Detto questo Dormiamo lo stesso Se no rompono le palle Eh Il Il The sensor Si potrebbe sfruttare In qualche modo Per dare un impulsino Non è una brutta idea Comunque Così È interessante Però Bisogna vedere Se L'impulso Dello Observer Resiste Al Secondo Blocco No Non resiste Tra l'altro Non punta neanche Il Non lo punta neanche Perché devo metterglielo su Deve essere così È fatta Ce l'abbiamo fatta ragazzi Non era Di fianco Dove essere un blocco più su Non so come Ma è abbastanza È velocissimo Ma è abbastanza Per dare il tick di lava Quindi adesso Ogni uovo che scende Viene sparato E nel frattempo Da un tick di lava Si gode Ora carichiamo Ne sono usciti Tre di fila What? Ok Godo Si gode Bene Abbiamo una farm Che inizia a funzionare Molto bene Un piccolo successo Oggi In una giornata In una serata Abbastanza sfigata Ma Top Direi che Abbiamo conquistato Una farm Che presto Produrrà del cibo Un po' più salutare Un po' più salutare No Un po' più nutriente Un po' più comodo Da portare Rispetto a questi A questi cosetti qua Molto bene E allora Con questo successo Salutiamo la skyblock Andiamo su palward Per chi resta Andiamo su palward Per chi va Ci vediamo domani sera Alle 20.30 Con la prossima live Vi saluto Se state guardando il VOD Lasciate un like Mi raccomando La prossima live La prossima live